Porta a voi, porta a voi Ah, qua! Gol! Qua! Addio 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 Aiaiaiaiaiai stiamo passando un periodo di bambola Bello Bergamo! che festa bello bello un campione come Baggio che gioca solo 5 minuti eh metti un po' di tenerezza no peccato consoliamoci dai abbiamo gli stessi punti del Milan 6 punti dai va bene va bene